Dottore Spadea, che cosa ci può dire sul ritrovamento di questa museruola, quindi di questo pezzo unico? La museruola per me significa una storia, una storia che risale da tanti anni fa, a quando qui a Crotone era animata da un bellissimo gruppo di studiosi, da cui c'era Giuliette Lagener che è membro dell'Accademia di Francia, insegnava all'Università di Lille e venne a sapere che c'era una museruola che girava ovviamente sul mercato clandestino ed era una museruola molto bella perché era in bronzo e ne ottenne una sorta di identikit in un disegno fatto a matita, così, molto approssimativo perché poi abbiamo verificato con l'originale che è totalmente diverso, di questo pezzo che è veramente un esemplare unico, adesso riacquisito dal museo di Crotone ed esposto, che ci dice tante cose perché praticamente una museruola di questo genere che si dà dal IV secolo a.C., recupera praticamente il mondo dei macedoni, il mondo dei mercenari, che significa qui a Crotone il momento in cui c'è Pirro e che viene dedicata in un santuario molto importante, quello di Vignanuova di cui parliamo, dedicato ad Era, che è la divinità più importante, quella che protegge Crotone, la protegge tanto nella città e tanto nel promontore di Capocolon, col santuario che è più importante per tutto il mondo della Romagna Grecia. Vignanuova ha il significato e il rapporto con il ritrovamento? Il rapporto con il ritrovamento, il Vignanuova è tutta una cosa da scoprire, ancora da riscoprire, da vedere e da valorizzare, infatti io questa sera lo vorrei raccontare così alla città, proprio perché se ne riappropri, perché lo riscopra veramente, è un posto molto difficile, però che ci racconta di mura, ci parla di mura, ci parla della protezione della divinità alle mura di Crotone, cioè alla città, al suo interno, ed è il luogo dove si libera, dove si proclama la liberazione, attraverso praticamente liberandosi delle catene che vengono appunto poi dedicate alla Dea. E in mezzo a tutte queste catene ovviamente ci sono Dei che illustri, ne parleremo stasera poche, ma importanti, talloni d'aste scritti, ma poi pater, eccetera, significa come al solito un grande mondo di un pantheon crotoniate che conosciamo ancora poco e che c'è soltanto era come principale indizio, ma altri ce ne stanno, tipo Zeus, tipo Demetra, tutto quello che è il pantheon del mondo antico. Grazie.